Sono Valentina Werik, sono nata a Predazzo in Val di Chiemme. Faccio parte della federazione norvegiana di sci di fondo e faccio lo ski man. Sono stata atleta per 22 anni, da quando sono nata praticamente sono sugli sci da fondo e poi a 24 anni ha deciso di smettere. Ho intrapreso subito la carriera di preparatrice di sci. Ho iniziato con la federazione polacca e sono 11 anni adesso che sono in Coppa del Mondo. Sono la prima italiana a lavorare nella federazione nazionale norvegese di sci di fondo e anche la prima donna e ne sono fiera di questo perché non è una cosa così scontata. Lavoriamo dalle 14 alle 16 ore giornaliere, ho da gestire 250-300 paia di sci e insomma non è così semplice ma è una delle parti più belle di questo lavoro. Siamo al tour de ski, questa anche per me è l'undicesima edizione, però è la prima con la federazione norvegese. Venire a casa è sempre bello e le gare qua in Val di Chiemme sono sempre stress per me perché valgono come un'olimpiade. Fare grande risultato qua hanno triplice valore rispetto a un'altra gara di Coppa del Mondo. Qua a Lago è dove sono nata, sono cresciuta e per me vuol dire tantissimo questa pista e spero le Olimpiadi e di essere ancora con questa squadra magari e riuscire ad ottenere il risultato, anche la prima medaglia olimpica come ski man perché questa mi mancherebbe alla collezione.